11esima rassegna della Bruna Valtrumplina questa domenica 5 maggio 2024 in località Piani di Nani a San Colombano di Collio Valtrompia con l'organizzazione del Nostrano Valtrompia DOP della comunità montana di Valle Trompia del comune di Collio e del proloco di Collio la manifestazione inizia alle 8.30 le premiazioni alle 13.30 alle 15.30 lo spettacolo a cura del gruppo folkloristico di Collio la manifestazione è riservata a Brune Alpine di proprietà della azienda da almeno 6 mesi le vacche presenti dovranno provenire da allevamenti ufficialmente indenni da TBC alla manifestazione saranno esposte anche razze caprine presenti in valle massimo 5 capre un becco o 6 capre per ogni allevamento le capre dovranno provenire da allenamenti ufficialmente indenni da brucellosi gli animali sia mucche che capre dovranno essere muniti di collane in catena legam e campanaccio la valutazione dei capi bovini presenti è a cura di un giudice dell'ANARB associazione nazionale allevatori di grazia Bruna a tutti gli allevatori partecipanti sarà riservato un premio di partecipazione tutti i partecipanti alla manifestazione potranno esporre i loro prodotti lattiero caseari iscrizioni e informazioni fausto piotti alberto lazzari silvio zanini 338 6 7 7 8 4 7 0 Bruna valtrumplina undicesima rassegna 5 maggio 2024 località piani di nani san colombano di colio valtrompia grazie a tutti